un saluto a tutti i lettori di smartphone lab punto it sto girando questo video da huawei p30 pro alla risoluzione del full hd a 60 fps questa modalità è presente sia la stabilizzazione ottica ma anche la stabilizzazione digitale quindi veramente molto molto completo questo smartphone da questo punto di vista mi sono mosso un po per farvi vedere proprio la stabilizzazione in realtà all'interno di questa modalità è possibile addirittura switchare tra le varie fotocamere questa è la 1 per adesso passo alla grande angolare per arrivare addirittura allo zoom 10 per che in questo caso è solo elettronico mentre il 5 per è quello ottico ritorno alla 1 per quindi all'ottica principale muovo un altro po giusto per farvi vedere la qualità di registrazione che è veramente molto molto migliorata rispetto al p 20 ma anche leggermente migliorata secondo me anche rispetto a me 20 pro vi ricordo che per tutti gli altri dettagli trovate da poco online nella recensione sia sul canale youtube ma anche sul sito ciao ciao